Sì Giotto e? Gioanni? Gioannino? Gio Anna Scuspia! e così non vale c'è lì anche un sasso in mezzo alle balle tirolo via quello butteggio bravo tre tutte e tre in mezzo ma forza c'è troca e mi sono dovuto fermare va a scudo da andare via largo ma veloce ok 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 robando una truzzata di tipo no io sono broco prendo una truzzata io sono attratto porque t'ho visto fermati di dire tu eh esatto eri in mezzo cuspi si appare che se la accendi da sotto che dai forte Track che se arresta fuori da questo perchè se no non va su Pizza Ciao è andato e allora seconda e perché questa se prende un attimino poi fa in tempo dagli dietro no e tutto le merda il sasso di merda